Stanotte il governo ci ha messo dieci minuti e in dieci minuti ha salvato una banca, la banca di Genova. Ha fatto bene, il governo ha fatto bene, perché quando le famiglie sono a rischio, i correntisti sono a rischio, i risparmiatori sono a rischio, si interviene salvando gli istituti. Salvini e Di Maio però si devono vergognare, e non per quello che hanno fatto in dieci minuti ieri sera, ma per quello che hanno detto per anni e anni contro di noi, si devono vergognare per le offese e per gli insulti, hanno truffato gli italiani raccontando storie non vere su di noi, sulla TAV, sulla TAP, sull'ILVA, sulle Trivelle, adesso persino sulle banche. È proprio vero, puoi ingannare qualcuno per tutta la vita e puoi ingannare tutti per una sola volta, ma non puoi ingannare tutti per tutta la vita. Con la vicenda delle banche ieri, Salvini e Di Maio devono semplicemente scrivere la parola vergogna.